Perché sì? Perché sì, perché questo Paese è 40 anni che vuole un sì. Da 40 anni ci sono commissioni ministeriali, governative, che stanno elaborando, hanno elaborato una riforma costituzionale tutta quanta nella direzione della riduzione dei poteri del Senato, nel senso di una sola Camera che decide dalla fiducia al Governo e nel senso di una velocizzazione delle leggi. Tutto questo serve al nostro Paese, serve ai nostri figli, serve al nostro futuro. Quindi sì. Ha parlato? Salvatore Putto e sono il coordinatore del Comitato per il Sì di Granarola dell'Emilia.